Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere delle cose bellissime, li conoscete i minifigures di Brawl Stars che hanno fatto? Io le ho comprate due buste, me le ha comprate mia madre veramente, e ho trovato questo, intanto ho trovato Piper che nel mio primissimo account, che era chissà quanti anni fa, ho trovato Piper, infatti ho trovato Piper, e poi ho trovato una cosa bellissima, Frank Argentato che è un raro, è raro c'è scritto nella bustina, ho trovato un raro, mia madre non pensava che non ne trovavo uno raro, Invece ho trovato Frank Raro, che è quello argentato, ma io volevo Leon, o Corvo, che ce l'ho sul mio account di Brawl Stars, cioè su questo tablet, poi i video della Nintendo Switch usciranno a breve, tipo inverno, scusate se non ho fatto più chiedo questo a Google, non potevo, quindi ciao ciao ragazzi, e iscrivetevi al canale, perché se no non vi arrivano niente notifiche dei video, ok?